Ma buongiorno! Buongiorno un cazzo! Che c'ho da fare? Che c'ho da fare divertirmi con te? Ma che c'ho da fare? Ma c'ho da fare io qua a manzo alla mattina c'ho da fare Ma il sottopalla come sta sopra? Fermi, lascialo qua! Oh! Basta che stai zitto! C'ho da andare! C'ho da andare a vedere una cosa! Che c'ho da andare a vedere? C'ho da andare a vedere una cosa! Fai un culo! No! Ma che c'ho da andare a vedere? E io da c'ho da vedere una cosa! Che c'ho da andare a vedere? Scusa! Giovedì si parte subito così! E che stai a fare? No! No! Vabbè! Vabbè! Che c'è? Ma! Che c'è? La surca! Sta pieno! Sta pieno! 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 Ma! Mamma mia! Sta pieno Zeppo! Mamma mia! Madonna! No! 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 Ma così è troppo! Passo una occhiale un attimo! La fa per bene la fa! No! Così! Che bello fatto! Con la bocca a culo di gallina! No! Fallo! No! A culo di gallina! No! Vabbè! Vabbè! Quando dici vabbè! Allarga gli occhi! Allora! Prima fase bocca a culo di gallina! No! Così! Vai! No! Vabbè! Con gli occhi così! Vabbè! 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 Far con gli occhi! la bocca del culo che allarghi gli occhi va bene sta pieno sta pieno sta pieno sta pieno ma tu stai guardando veramente i cazzi degli altri guardo un qua e là ma fanno ocu la bocca al culo dei gallini ma ci ho fatto fino a me al culo dei gallini ma me fa il culo no no al culo 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 un cazzo ma perché non è bella piccola ma perle mattutine o no lascia perle va lascia perle carlettolife.com maia sta pieno sono tornate anche le felpe quindi fate swipe up se non lo fa swipe up facete due pass due pass due pass due pass anche la nonnina l'hai sognato il papa si l'ho sognato che fa che faceva e niente mi ha detto che ne era stato lui anche sul sogno quindi e beh certo e beh giustamente hai fatto lo scherzo ma io ti voglio bene uguale ciao federico ciao cocco bella 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 mi piace aiutarti per le tue imprese davvero le mie imprese le imprese di hercules fai crato salvare beh l'uomo donna senti il bel massaggino massaggino senti il bel massaggino come le massaggino le donne ragazzi e ben fatta con la fila io vò oh no io vò dove grazie ciao ciao buongiorno buongiorno mamma mia questa siamo carichi o no ci siamo ci siamo se ce la fai ce la fai ce la fai scambio alla pari con mimmo che c'hai tu non alla pari la maglia è più importante la maglia tua si più importante mia è di goran tu è di goran ragazzi per che cosa indovinate indovinate per che cosa porchetta salsiccia e tagliatelle assaggia un pezzo porchetta dai live la assaggiamo eh vai senti un po' com'è com'è la porchetta grande mimmo anche è umbrish vero adesso è umbrish grande dormivo dormivo grazie gli ho sporcato tutto le porchetta che spettacolo tagliatella è buona questa è della nonna dopo facciamo cucinare vabbè è buona anche cruda assaggila dai vediamo dopo diamo un voto alla nonna dopo diamo un voto va bene grande mimmo e non la pausina fate un cazzo la sua gira non la pausina mangia e basta eh va bene dormimo dormimo no no non dormo non appoggio la testa non te viene di dormire eccomi qua eccomi qua il vostro capitano ha incontrato il capitano del genoa andate un po' a sentire a mimmo facciamogli vedere che ci siamo andate tutti a scrivere a mimmo va scriviamogli dormimo tutto il team a scrivere dormimo a mimmo voglio vedere se mi chiama e mi dice oh basta smetti basta voglio vedere intasiamogli instagram ora direzione milano per dire umano da fare delle cose e anche sabato e niente ve la uccide questi tre giorni ero fuori io sono sempre con voi comunque alle 18 posterò una foto dello scambio con mimmo e niente ci vediamo dopo perché comunque uno può girare può andare tutto però deve essere sempre se stesso è da mimmo che gli posso regalare se no le tagliatelle e due salsicci uno deve essere così deve essere spontaneo vero è questo il bello forza coccodrilli bella camera bel bagno letto top abbiamo pure la vasca ma do cazzo volete andare senza la porchetta e la torta di pasqua di nonna maria cioè raga questo è l'abc per me ci può sta la vasca quello che cavolo mi pare ma senza sta roba io non voglio da nessuna parte voi ne avete capito forse senza le salsicce secche di nonno Faustino do cazzo andiamo senza la porchetta senza io mi sento mamma mia raga non ve l'ora di cena adesso mi rilasso un attimo metto la vasca e poi mi strafogo magno e vi faccio vedere anche che magno magno questo semplicemente questo porchetta salame salsiccia torta e vino sono il nipote di nonno Faustino non fa una piega disse il ferro da stiro mamma mia qua è poesia per chi invece vuole iniziare a guadagnare qualcosina con il trading adesso vi faccio vedere i risultati di chi già ha iniziato eccoli qua con i screen e vi metto il tag di Leone forza coccodrilli del delivery arrivano con sti sushi sti sorciai si ogni tanto da gusto ma vieni di lì qua guarda guardela la torta come svetta guardela insieme alla porchetta mamma mia questo popò di organizzazione e c'è anche lei logicamente sei pronta eh metti il costumino no devi andare al bagno un'altra volta al bagno no Ale cin cin amore salute quando uno trova la ragazza giusta ragazzi è fantastico